Vi state aspettando 6 consigli per arrivare alla prova costume in perfetta forma? Conta le calorie, mangia meno e muoviti di più. No dai scherzo, anche perché sarebbero 3 e non 6. A dire la verità all'inizio volevo fare questo video con solo 5 consigli, poi me ne è scappato un sesto che è un po' borderline, però adesso vi racconto. Mi immagino comunque le vostre facce sbigottite, e spero che nel frattempo non abbiate chiuso YouTube, anzi sulla fiducia. Mettete like a questo video e seguitemi se già non lo fate. E vabbè, già che ci siete, mi lasciate anche un commento per sapere che ci siete? Allora, riprendiamo intanto il discorso dopo questo delirio. Quei 3 consigli che vi ho dato sicuramente vi porteranno ad un dimagrimento iniziale, ma molto probabilmente dopo poco vi sentirete frustrati e abbandonerete la dieta con un unico risultato. Recupererete in brevissimo tempo il peso perso, eppure con gli interessi. E poi non vorrete più vedere una dieta in vita vostra, manco col binocolo. Quello su cui ci si deve concentrare invece è la ricomposizione corporea, queste due paroline magiche, dando quindi priorità alla perdita di grasso, restando comunque attivi e in salute. Ecco quindi alcuni consigli che vi posso dare, ma considerate che sono una naturopata specializzata, sì, in alimentazione, però ho anche studiato tanto per potervi dare questi consigli. Poi per qualsiasi dubbio potete scrivermi e contattarmi, o anche chiedere al vostro nutrizionista o medico di fiducia. Partiamo dal primo consiglio, mangiare latticini interi. È vero, i latticini creano infiammazione, non andrebbero mangiati, andrebbero limitati, però ragazzi, una volta ogni tanto ci scappa pure il latticino, lo yogurtino e io sono, ahimè, una grande fan dei latticini, quindi devo essere l'ultima a parlare. Poi dalla teoria alla pratica, come sapete anche voi, passa un abisso. Però se si deve scegliere, abbandonate tutte le versioni light e optate invece per i latticini interi. Lo so, alzi la mano chi non ha mai comprato uno yogurt zero o dei formaggi light, pensando di fare una cosa furba. Ma rispondete a una domanda. Dopo averli mangiati, vi siete sentiti sazi o poco dopo vi siete ritrovati davanti al frigo o davanti alla dispensa, alla ricerca spasmodica di qualcos'altro? Tutti, infatti, pensano che essendo a basso contenuto di grassi rappresentino l'opzione migliore in quanto anche minori in termini calorici. Ma un basso contenuto calorico non è sempre meglio anche e soprattutto se l'obiettivo è proprio quello di perdere peso. Il corpo, infatti, è incentivato, sentendosi affamato, alla ricerca spasmodica di cibo dolce che ovviamente tutta questa tipologia di cibi non sono certamente amici della dieta. L'obiettivo del mangiare, quindi, dovrebbe essere quello anche di sentirsi nutriti e sazi oltre a prevenire la fame dopo poco tempo. Quindi, importante anche in questo caso, come dico sempre, la consapevolezza di quello che si prova prima, durante e dopo che si finisce un passo. Proprio quel latticino pieno di grassi contribuisce ad aumentare gli ormoni della sazietà, contiene proteine e grassi e i grassi, a differenza della versione appunto a ridotto contenuto di grassi, è proprio la parte che contiene anche micronutrienti. e questi latticini ricchi, ricchi, che contengono comunque più grassi rispetto ai loro fratelli light, contengono anche più, cioè, contengono anche proprio tutta una parte vitale che va a nutrire il corpo, mentre la versione light contiene solamente delle proteine e quindi saziano di meno perché è vero che le proteine saziano ma se abbinate anche ad una fonte di grassi sazieranno, non dico il doppio, ma forse anche di più. Inoltre, appunto, come dicevo, è proprio nel grasso che sono racchiusi tutta la parte dei micronutrienti, soprattutto anche la vitamina K2 che è fondamentale per estrarre il calcio dalle arterie e nelle ossa e quindi è un vero tocca sana per la salute del cuore e delle ossa e poi, diciamocela tutta, sono anche decisamente più buoni quindi largo ai latticini non light che costano meno e risparmierete anche nell'integratore K2 perché so che lo prendete se prendete anche la vitamina D. Consiglio numero 2 le proteine i consigli che spesso vengono dati sono mangia carne bianca magra e ci risiamo così ci si sfonda di petto di pollo fino allo sfinimento tanto che a volte si inizia a ragionare pure come una gallina no, scherzo anche perché le galline sono animali super intelligenti poracce quindi le proteine è in dubbio sono importanti e necessarie per sostenere il corpo nell'obiettivo della ricomposizione e aiutano anche a sentirsi più sazi e aiutare i muscoli a crescere oltre che mantenere un metabolismo sano fondamentale anche nel processo di dimagrimento o di mantenimento non tutti però sanno che le carni magre sono spesso prive di molti nutrienti importanti per il corpo ad esempio la glicina il collagene l'omega 3 il ferro e la colina la carne magra inoltre è anche meno saziante di quella leggermente più grassa l'agnello ad esempio è più grasso del pollo ma viene considerata una delle carni più sane che si possono mangiare io l'ho scoperto perché prima assolutamente non volevo toccarlo l'ho scoperto in Grecia e devo dire che lo amo alla follia la soluzione quindi qual è vi starete chiedendo alternare carni magre a quelle più grasse in modo da variare e valutare anche di persona gli effetti che si hanno in termini di sazietà e anche benefici proprio in termini di salute e lo stesso ragionamento lo si può fare anche per il pesce anche se lì è un po' un discorso a parte all'inizio vi dicevo che avevo introdotto ero partita con 5 consigli alla fine ne ho introdotto un sesto che è un consiglio un po' alattere e sono gli elettroliti se si segue una dieta chetogenica o low carb quindi con un ridotto consumo di carboidrati è importante integrare anche con l'assunzione di elettroliti e quindi sodio magnesio e potassio per bilanciare proprio la perdita di liquidi e quindi anche di sali minerali un valido aiuto anche per sentirsi oltre che più idratati anche più energici provare per credere quarto consiglio gli spuntini io ovviamente sono qua che predico ma razzolo male sono una di quelle persone che deve fare uno spuntino a metà mattina e uno spuntino a metà pomeriggio ma se non se ne ha l'esigenza è meglio evitare tanti dicono bisogna fare anche gli spuntini tantissima gente magari si sforza di farli bisogna comunque tenere in considerazione che quello che si mangia di norma negli spuntini sono sono dei cibi poco indicati anche per la dieta perché sono tutti quegli alimenti progettati proprio per non soddisfarti per instaurare quella voglia continua di cibo e di zuccheri in genere infatti sono ricchi di carboidrati quindi di zuccheri e di grassi non buoni ultra trasformati e ultra processati e proprio questa tipologia di alimenti sono creati anche per creare dipendenza oltre ad avere un basso apporto di proteine infatti ve ne parlavo forse in un video un po' di tempo fa viene fatta proprio una combinazione di zuccheri grassi e sale in una percentuale tale da creare dipendenza quanti di voi aprono un sacchetto di patatine e lo mangiano fino alla fine guardate in tante patatine c'è anche lo zucchero se lo spuntino viene fatto perché a metà mattina o metà pomeriggio si è affamati questo può anche significare che non si sia che non si è mangiato abbastanza o comunque i giusti alimenti nei passi principali o comunque troppe poche proteine e o grassi ma anche fibre perché sono importanti anche loro per il senso di sazietà se si mangiano sufficienti quantità di questi tre macronutrienti proteine grassi e di fibre questi dovrebbero farci sentire sazi per almeno quattro ore eliminando quindi la necessità di fare spuntini se invece si ha voglia di uno spuntino di sgranocchiare qualcosa l'importante è primorarsi in anticipo di spuntini sani e che comunque non siano composti principalmente solamente da zuccheri e da carboidrati il quinto consiglio è la sazietà che si ricollega un po' al punto precedente mangiare fino a saziarsi è importante per portare avanti proprio una dieta che possa diventare un vero e proprio stile di vita e questo è l'importante molti invece concepiscono una dieta come affamante e questa condizione spinge anche ad avere la tendenza a cedere e a buttarsi su cibi pieni di zuccheri e di facile consumo con l'unico risultato di buttare poi all'ortica e tutti gli sforzi fatti a quel momento e portando in molti casi anche ad una perdita muscolare non indifferente e quindi ad un conseguente anche rallentamento del metabolismo la soluzione mangiare fino a sazietà dei cibi nutrienti e sazianti con pochi zuccheri da considerare poi anche che mentre si mangia di norma dovrebbero il senso di sazietà arriva dopo circa 20 minuti ed è quindi importante anche imparare a conoscersi e capire quando si è mangiato abbastanza ma non troppo e neanche troppo poco questo ovviamente arriva con il tempo non spaventatevi e con una grandissima consapevolezza di se stessi se comunque si fa fatica ad ascoltarsi basta prendere questo come riferimento se dopo meno di 4 ore si sente ancora il senso della fame vuol dire che non si è mangiato abbastanza nel passo precedente e quindi il giorno successivo si potrà ricalibrare semplicemente il tutto finché non si trovano le giuste dosi per arrivare sazi al passo successivo comunque magari con uno snack salutare leggero se proprio si sentisse l'esigenza ma più magari per uno sfizio che per fame un consiglio poi che posso darvi è quello di inserire in ogni pasto delle proteine di qualità dei grassi e anche delle fibre poi per conoscere il proprio fabbisogno di proteine vi lascio un link un video dove spiego tutto nel dettaglio e ve lo lascio alla fine di questo video cliccabile e anche giù nei commenti sesto e ultimo consiglio camminare e fare attività sportiva ma quale un consiglio utile che non vale solo per mantenersi in forma dimagrire e via dicendo ma anche proprio per perseguire uno stato di benessere e vivere in salute e soprattutto anche il camminare perché il camminare è ancora meglio del correre soprattutto se si vuole tonificare il corpo e puntare a questa al mantenimento proprio della muscolatura ed essere tonici se si vuole appunto puntare a questa tonificazione muscolare e quindi anche all'aumento della massa magra che ricordatevi peserà di più della massa grassa si può decidere di fare l'attività con i pesi e tonificazione ma anche camminare limitando poi il cardio un pochino più spinto come anche la corso tutte quelle attività cardio che vengono fatte in palestra anche il metabolismo ne risentirà positivamente quindi un pochino meno di cardio se si vuole non solo perdere peso ma anche puntare ad un metabolismo veloce e ad un corpo super modellato anche e soprattutto nel lungo periodo l'allenamento di resistenza inoltre può comprendere una moltitudine di attività e di esercizi si può parlare di pilates di alcune tipologie dello yoga o anche quelli più tradizionali come lo squat e i pesi e anche tutti quei macchinari che si possono trovare nella sala pesi della palestra ma che magari possono essere anche eseguiti da casa con un semplice tappetino ci sono tantissime guide su youtube che vi spiegano esattamente come fare poi basta acquistare magari un elastico da palestra per enfatizzare e per rendere il tutto ancora più efficiente quindi per riassumere con una parola chiave equilibrio tra tutte le tipologie di attività fisiche ma direi anche che si può applicare a tutti gli ambiti della vita se questo video vi è piaciuto ripeto lasciate un like scrivetemi anche qualcosa nei commenti così so se questa tipologia di video vi interessa vi piace o se volete desiderate qualcos'altro e se non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale che per me è importantissimo per crescere e diffondete anche il video a tutte le persone che sapete potrebbero essere interessate grazie mille e alla prossima